E allora stiamo seguendo ovviamente i lavori del Consiglio Europeo che è iniziato da poco, dove non si parla soltanto di migranti, ma stiamo anche parlando noi qui in studio di questioni politiche che ci riguardano molto da vicino. Qui con me c'è Stefano Buffagni, Sottosegretario di Affari Regionali e Autonomie del Movimento 5 Stelle, grazie Sottosegretario per la sua disponibilità e c'è anche Massimo Leoni che è a Bruxelles perché ricordiamo, ciao Massimo, intanto buon pomeriggio, del dossier migranti si parlerà tra diverse ore, si comincerà presumibilmente a parlarne in tarda serata, forse a cena e le questioni sul tavolo in questo momento sono altre. Sì, adesso si parla di Nato, di Russia, di sanzioni, questo è dedicato alla prima parte di questo Consiglio Europeo, un Consiglio Europeo, noi abbiamo raccontato tante volte, la cronaca ha raccontato tante volte di Consigli Europei, di esiziali, esistenziali, addirittura l'ha definito la Merkel quello di oggi, per la sopravvivenza dell'Europa, chissà se questo Consiglio si rivelerà effettivamente così, è certo che la questione migranti riguarda tutti i governi europei, posizioni molto diverse, con tentativi di avvicinamento, l'Italia ha assunto, lo sapete, negli ultimi settimane una posizione rigida sugli sbarchi, vuole fondamentalmente tre cose, una revisione del trattato di Dublino con quote obbligatorie per i paesi, la costituzione di cosiddetti hub per il riconoscimento dei migranti già in Africa, sulle coste mediterranee ma anche più a sud magari, e questo è la costituzione di una polizia europea di frontiera che possa fermare anche nel Mediterraneo, anche alle frontiere sulle coste italiane, che Giuseppe Conte, il nostro Premier, ha ripetuto tante volte essere confini europei, anche lì fermare i flussi migratori. Un programma vasto e ambizioso, Giuseppe Conte oggi all'arrivo qui al Consiglio europeo ha detto che l'Italia non sottoscriverà degli accordi a ribasso su questi temi, lasciando intendere che eventualmente potrebbe il nostro paese ricorrere anche al diritto di veto e quindi non condividere le conclusioni del Consiglio. Si aprirebbe una storia evidentemente diversa, inedita e per questo, anche per questo il Consiglio è molto importante. Si parla anche di questioni economiche, di governance dell'Eurozona, anche se questo argomento, anche questo partito con grossi auspici perché l'iterale Francia e Germania di qualche giorno fa ha rilanciato l'idea per esempio di un bilancio dell'Eurozona, beh di questo non si parlerà, la bozza di conclusioni già diffusa alla vigilia di questo vertice non ne parla, quel contenitore era già svuotato di contenuti perché non si era individuato nemmeno all'incontro bilaterale un fondo capace di alimentare quel bilancio come questo bilancio dovesse essere composto. Di fatto anche il contenitore però è sparito dalle bozze. Insomma, davvero grande attesa per i risultati, si parla di una nottata lunga e quindi dovremmo darvi notizie fino davvero a tarda sera. Elga? Beh, sì, insomma diciamo che dovremmo aspettare ancora un po' per sapere come andrà e per vedere se in effetti poi alla fine non si dovesse raggiungere sotto segretario questo accordo, come diceva Massimo Leoni che peraltro resta in nostra compagnia, potrebbe accadere davvero qualcosa di inedito mai avvenuto prima? C'è uno strappo con l'Unione Europea se l'Italia non firmasse le conclusioni di questo summit? Perché è uno strappo? Finalmente l'Italia è protagonista della dialettica e della politica europea, insomma abbiamo rimesso al centro della politica europea le tematiche del nostro paese quindi credo che gli italiani siano felici di questo, non stiamo mettendo rigidità o quant'altro ma stiamo semplicemente chiedendo e ricordando che chi arriva in Italia non sta arrivando in Italia, sta arrivando in Europa perché l'Europa non è che funziona a rate, un giorno va bene che ci sia l'Europa quando poi ci sono i problemi sono dei singoli stati. Il potere di veto esiste, lo si può usare in certi casi, l'Italia non lo ha mai fatto perché evidentemente ha sempre preferito avere un atteggiamento su Pino, noi invece siamo il governo del cambiamento, le persone si aspettano questo, credo che andando in giro tra le persone a parlare condividono perché noi siamo un paese che negli anni ha salvato in mare quasi un milione di persone, quindi non è che siamo persone che non hanno a cuore il futuro delle persone che condividono con noi questo bellissimo pianeta, però è anche vero che noi dobbiamo bloccare come abbiamo scritto anche nel contratto di governo il business dell'immigrazione, cioè qui ci si dimentica che in questa città uno come Buzzi disse che si facevano più soldi sui migranti che sulla droga, ecco magari ci ricordiamo che noi dobbiamo assolutamente accogliere chi scappa dalla guerra, ma non è che possiamo accogliere tutti in maniera incondizionata. No, no, ma questo è chiaro, però in quale l'atto pratico, considerando insomma ci sono ormai, abbiamo tutti degli elementi che ci fanno ragionevolmente pensare che da questo vertice non ci sarà un'approvazione del piano che il premier Giuseppe Conte qualche giorno fa ha presentato nel corso del pre-vertice, questo insomma possiamo tranquillamente assediare che può anche essere un inizio di una ridiscussione, perché siamo sempre stati abituati di arrivare a quei tavoli con la Francia e la Germania che avevano già deciso cosa bisogna votare. Ecco, noi siamo l'Italia, siamo un paese fondatore dell'Europa, siamo un paese importante, non contiamo proprio come il 2 di picche, quindi crediamo che sia fondamentale rimettere al centro i nostri temi. Oltre a questo è anche un banco di prova, se noi non sappiamo farci rispettare da Italia su questo tema cardine, credo che poi su tutti gli step successivi che riguardano anche l'alimentazione dei fondi, come si parlava prima, della ripartizione dei fondi europei del prossimo settennato, piuttosto che tutte le manovre di bilancio che vogliamo fare, chiaramente partiamo da una situazione differente, quindi è giusto che portiamo avanti le istanze che i cittadini ci hanno chiesto di fare, senza spaccare con l'Europa, senza il tema euro che qualcuno aveva continuato a lanciare, ma rimettendo gli italiani al centro di una visione di un continente unito. Va bene, insomma, vedremo come andrà. Allora, direi Massimo, invece di entrare più sulle questioni politiche interne, insomma, poc'anzi abbiamo cominciato anche a parlare delle ultimissime novità, le cose più attuali, intanto il decreto dignità, perché oggi veniamo a sapere che approderà in Consiglio dei Ministri lunedì, e quindi che cosa è successo ieri? Si è detto che non c'erano le coperture, quindi era stato rimandato per questo. Ieri non credo che fosse in agenda il decreto, si voleva fare, però ci sono dei problemi tecnici, perché bisogna trovare perfettamente le coperture, proprio perché stiamo iniziando un confronto importante con l'Europa, dobbiamo essere sempre perfetti, dimostrare serietà e affidabilità, e quindi semplicemente è stato necessario qualche giorno in più. Però credo sia un passaggio importante e rivoluzionario che segna anche un cambio di passo, quindi un rimettere al centro i diritti sociali dei cittadini rispetto a una volontà e una spinta verso i diritti civili che avevano a un certo punto prevaricato un po' tutto il resto. Quindi l'importanza del valore della persona umana, l'importanza dei diritti sociali e della tutela del lavoro, che sono temi importanti senza contrapposizione tra datore di lavoro e dipendenti, ma in un'ottica di tutela e integrazione delle necessità di entrambi i player in campo. Massimo. Uffagni, si legge oggi sui giornali ancora la reiterata richiesta dell'Italia e dell'Europa di flessibilità sul rapporto deficit-PIL, debito-PIL per poter attuare delle politiche di sviluppo. È una vecchia storia, oggi si inserisce anche però proprio nel dibattito che tra poco occuperà il Consiglio. Lei ritiene realistico che si possa scambiare per esempio l'esigenza di reimpatrio nel Paese di registrazione, che è un problema che porrà sicuramente la Merkel, che lo sa a confronto con il suo Ministro dell'Interno, a questo Consiglio. L'Italia potrebbe essere disponibile a queste ipotesi in cambio di qualcos'altro, per esempio perché in Europa purtroppo si tratta che l'Italia faccia la faccia dura su delle cose sulle quali ha assolutamente ragione, perlomeno questo è il mio parere, però poi qui si entra in un contesto in cui ci sono 28 Paesi ognuno dei quali ha delle istanze e poi uscire da qui col diritto di vieto esercitato forse non è un ottimo affare. Non credo che sia anche un ottimo affare per l'Europa perdere l'Italia, quindi voglio dire neanche fare una riflessione un po' più ampia. Io credo sia necessario iniziare una trattativa anche da posizioni magari a volte un po' rigide, mettiamola così, però credo sia necessario, anche perché abbiamo abituato probabilmente i nostri amici vicini di casa a considerare l'Italia sempre come un player che dà sempre l'ok, che alla fine viene via con poco. Noi invece vogliamo avere un approccio totalmente diverso, anche perché nelle politiche economiche noi abbiamo per esempio il secondo avanzo primario d'Europa, quindi non è proprio una cosa da poco, abbiamo sicuramente dei problemi rispetto alla ripartizione del debito e al ripiano, che è importante da fare, avevamo anche proposto per esempio di tirar fuori dagli equilibri i piani di investimenti pubblici affinché non rientrassero nel rapporto, quindi ci sono mille opzioni da mettere in campo. Di certo io non metterei in discussione, in comparazione, eventuali accordi sul rimpatrio di migranti, io partirei invece da un altro punto di partenza, perché c'è uno squilibrio commerciale da parte dei tedeschi, quello è il nodo, non che noi ci facciamo dettare da loro l'agenda e loro si pongono le condizioni, noi siamo l'Italia, ci vogliono nell'Europa, noi vogliamo restare in Europa, bene, se dobbiamo essere una comunità dimostriamolo, quindi vogliono rimettere in discussione alcuni punti? Anche noi, facciamolo, discutiamo in ottica di collaborazione. Ripeto, credo che già il grande passo è che finalmente l'Italia sia centrale nelle discussioni e che si sia fatto retromarcia su un accordo che avevano già trovato, Macron, che ci fa la lezione di morale su come gestire i migranti e poi loro hanno causato la guerra in Libia, perché questo secondo me è importante che lo ricordiamo, cioè sono stati francesi a volere la guerra in Libia, quindi hanno scatenato loro un grosso problema, hanno fatto quello che hanno fatto alla frontiera di Ventimiglia, si sono permessi di arrivare a Bardonecchia, quindi io credo che è importante che i cugini d'Oltralpe ricordiamo che siamo l'Italia, ma in attesa di una soluzione che evidentemente non arriverà a breve, un primo passo potrebbe essere... La politica può fare sempre miracoli, non ci sono forse presupposti. Non immediati, non abbiamo mai visto miracoli politici immediati, poi su questioni così delicate, però a parte questo, ma la soluzione o comunque l'indicazione, più che soluzione, indicata dalla Merkel che dice intanto si potrebbe proseguire con i paesi volenterosi, potrebbe essere accettabile, sull'esempio del caso dell'operazione Lifeline, cioè paesi che si mettono d'accordo, non tutti è chiaro, però paesi che sono disponibili ad accogliere i migranti che arrivano. Facciamo una riflessione, noi dobbiamo bloccare il problema alla fonte, non dobbiamo rincorrere il problema con un'ottica emergenziale come ha detto il Premier Conte da sempre, noi dobbiamo ricordarci che dobbiamo disincentivare queste persone a partire, nel momento in cui sanno che se partono, non hanno più questa facilità di approdo, innanzitutto già diminuiscono le partenze, dopodiché verificare con la Guardia Costiera, noi credo che il Ministro Toninelli abbia dichiarato che appunto fornirà delle motovedette ulteriori alla Guardia Costiera libica, perché? Perché non è tollerabile che delle navi, addirittura alcune come abbiamo scoperto, olandesi non registrate in Olanda, cioè il loro stato teorico di registrazione li disconosce, debbano andare in territorio libico a raccogliere lì dei migranti che arrivano con dei gommoni, quindi dei trafficanti e li portano in Italia, non esiste, cioè blocchiamoli, facciamo in modo che vengano istituiti dei campi verificati dall'ONU, dall'HCR, cioè che ci sia la tutela del rispetto della vita umana, perché è fondamentale, e l'ho detto prima e lo ribadisco, l'Italia ha salvato quasi un milione di vite in mare, l'Italia, non la Francia, la Spagna o la Germania che fa la morale al mondo, ma assolutamente il problema va fermato a monte, in Libia c'è una situazione esplosiva, l'hanno causato i francesi, esattamente come applichiamo nella politica il fatto che chi ha causato i problemi non può essere anche quello che li risolve con la bacchetta magica, ci rendiamo conto che forse bisogna cambiare delle posizioni politiche. Allora abbiamo ancora pochi secondi, però ci tenevo anche a chiederle, tornando sul decreto di dignità, il suo punto di vista relativamente ai toni che sono stati un po' alzati ieri dal presidente degli industriali, Boccia, sicuramente avrà sentito, quantomeno avrà letto a lui diverse misure di questo decreto di dignità, non piacciono soprattutto quelle che riguardano la stretta sui contratti a tempo determinato, dice che sono un errore e per di più di fronte ad una crescita che sembra rallentare, dice anche che probabilmente servirà una manovra correttiva, è così? Guardi Boccia ci dà le informazioni lui quando i dati dicono un'altra cosa, però detto questo, Confindustria in questo paese ha dettato l'agenda per anni e mi sembra che le cose non è che abbiano proprio funzionato col vento in poppa, quindi evidentemente ci saranno delle sedi opportune nelle commissioni dopo che il decreto viene approvato per la conversione in legge dove Confindustria potrà portare un contributo reale, reale non di annunci ma di contenuti e lo ascolteremo più che volentieri, detto questo io credo che sia importante che ciascuno faccia il suo lavoro, Confindustria ha un ruolo importante nel paese, è giusto che lo eserciti ma io credo che sia arrivato il momento che in questo paese si collabori, non che si continui a fare una guerra che c'è quello che ha sempre la ricetta migliore degli altri, noi siamo aperti, il Premier Conte l'ha detto dal primo giorno, ascoltiamo tutti, siamo aperti a tutti e avevano detto lavoriamo insieme ma basta i professori, guardi io quelli che hanno sempre ricette magiche, io non so forse non sono cresciuto tra le favole ma non è che stravedo Va bene e per chiudere prima di salutarle invece questa è una curiosità perché non abbiamo più tempo anche se le questioni sarebbero davvero molte e ci rivedremo mi auguro ovviamente ma questa storia dei Dazi sui prodotti dell'agroalimentare? Questo è un altro tema, noi vogliamo togliere i Dazi con la Russia, si figuri questi temi sono temi importanti, sono questi i veri temi sui quali l'Europa dovrebbe lavorare unita per difendere i nostri interessi, dopodiché ripeto non metto il carro davanti ai buoi ragioniamo uno step alla volta e vediamo dopo gli annunci e la documentazione cosa prevede Va bene, questo tema comunque ci porta inevitabilmente negli USA con Trump perché la notizia del giorno è anche un'altra Posso fare un'ultimissima domanda a Buffagni, Elga? No Massimo, mi dispiace, non adesso, perdonami, ma sono 16 e 17 e con Giovanna Pancheri insomma parliamo del prossimo incontro che il Premier Conte avrà con Donald Trump Grazie sottosegretario Buffagni per essere stato con noi